Vorrei dire quali sono le cose che in questo tempo non funzionano. Io credo che abbiamo fatto del nostro meglio per peggiorare il mondo. Stiamo immersi in questo virus che ci ha sconvolto tutti, ma io credo che c'è un virus da anni che ci ha indebolito, ci ha reso molto fragili. Io cerco di vedere o intuito almeno sei cose che ci hanno reso molto deboli. La prima è la solitudine e l'essere muti nel dolore. L'80% dei giovani ha paura della solitudine. Per questo scappano, riempiano di mille cose la vita, perché hanno paura di guardarsi dentro. Adamo, vi ricordate, è in paradiso ed è triste. E uno dice, sei in paradiso, meglio di lì dove vuoi andare. Eppure era triste. E allora Dio geniale gli dice, Adamo, in settimana ho creato le piante, gli animali, ma perché non gli dai un nome? Sentite tenero Dio. Prova a dare un nome agli animali, alle piante, ti sentirai meno solo. Ma lui continua a sentirsi solo. E allora fa una cosa geniale. Prende la costola di Adamo e fa Eva. La parola costola vuol dire la tua metà, vuol dire il tuo faccia a faccia. Abbiamo tutti bisogno di qualcuno davanti che ci possa parlare, ci possa guardare. Avete visto come siamo strani? Che se uno semplicemente ti guarda ti senti vivo e se non ti guarda nessuno ti senti morto. Se uno solo ti ascolta ti senti unico al mondo, altrimenti ti senti un numero. Se uno ti bacia ti senti bello, altrimenti ti senti brutto. Non abbiamo bisogno della luna. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci guardi. Abbiamo bisogno di un pezzo di pane, di un po' d'affetto, per togliere questa solitudine che si annida dentro di noi. La seconda cosa che non funziona sono i ritmi folli che viviamo da troppi anni. Quando parlo ai giovani gli dico, ma cosa pensi di tuo padre e di tua madre? Ormai quasi tutti dicono mio padre e mia madre sono esauriti e penso che hanno ragione. Si trovano un modo di adulti che corre dalla mattina alla sera, non sai dove vanno, con questi ritmi folli, da quando è nato il mondo, non si è mai campato così. Si seminava, si aspettava, se non si fa oggi si fa domani. Dice Baudelaire che il ritmo di una città è più veloce del ritmo del cuore dell'uomo. E se il ritmo che vivi è più veloce del ritmo del cuore, o ti prende un infarto, non sei fatto per campare così. E se sentiamo il cuore, non è poco, ci basterebbe per campare. Questi ritmi cosa hanno fatto? Hanno separato mente, corpo e anima. Corpo qui, la testa di là, l'anima non si sa dov'è. Ma come fa oggi un padre o una madre a vedere se tuo figlio si droga, se è felice, se è triste, se arrivi sfinito a casa? Io consiglio a tutti i genitori, prima di entrare in casa la sera, di fare un giro intorno al palazzo, respirare, ricollegare mente, corpo e anima e dopo entri in casa in silenzio e lo vedi come sta tuo figlio. La terza cosa che ci ha reso fragili è la consapevolezza che ci hanno ucciso. Consapevole vuol dire, se vuoi capire cos'è il fuoco, ci metti la mano un attimo su una candela e lo senti cos'è il fuoco. Consapevole vuol dire, vuoi capire la vita? La devi toccare. Oggi il virtuale è troppo. Ci ha rimbambito questo virtuale esagerato. Vedete, chi ha fondato Facebook è un genio perché ha fatto i miliardi, perché lui ha visto che la gente faceva fatica a comunicare, ha trovato tanti modi per far comunicare le persone. Sembrava quasi che lo slogan fosse mai più soli. Ma lo sentite quanto è assurdo e quanto è diverso. Se io ti mando un messaggino e ti dico ti amo, oppure ti guardo, divento rosso e guardo come te mi guardi, la vita va toccata e la consapevolezza arriva toccando la vita. La quarta cosa che non funziona e che ci ha reso deboli è che ci hanno ucciso la responsabilità. Ormai la responsabilità, avete visto, non ce l'ha più nessuno. Tutti a dare la colpa fuori di noi. C'era madre Teresa, geniale, un giorno, arriva un giornalista e lei a pulire un lebroso e gli dice, madre, cosa c'è che non funziona in questo mondo? Lei, poverina, si gira e gli fa, signore, quello che non funziona, sono io e lei. Non esiste la società, non esiste una comunità, io e te. E responsabile vuol dire rispondere. Vedete, quando io morirò, quello che mi giustificherà non saranno i 10, 12 libri che ho scritto, non saranno i 4.000 metri che ho costruito, ma sarà una domanda. Ci sarà più vita o più morte dopo che sono passato io? Ve lo chiedete mai? La quinta cosa che ci ha reso deboli è la volontà. Abbiamo davvero una volontà debole? Io non sopporto il vecchio catechismo, non sopporto il metodo della scuola, non sopporto il metodo educativo di oggi, perché più o meno è che a ogni domanda ci vuole una risposta. E non funziona così. Vedete, io ho un grande gruppo di genitori a cui è morto i figli, e i loro poverini vengano con domande crude. Dio, dov'eri quel giorno che è morto? È Natale, mi manchi di più. Da dove ricomincio a vivere? E io non posso dargli una risposta stupida, come ho sentito un prete una volta. Sai, il tuo bambino era più buono di un altro. Dio l'ha voluto in paradiso con sé. Stai zitto, guardate l'ora di farla finita, di offendere il dolore delle persone. Io non mi permetto di dire perché gli è morto, non lo so. Gli dico come Gesù, vieni, seguimi, facciamo due passi. E allora il metodo nuovo per me è abitare le domande e smettere di dare risposte. Se un bambino ha paura, non posso fargli un discorso teorico sulla paura, lo abbraccio, ma il danno peggiore che abbiamo fatto a questi figli gli abbiamo spianato troppo la strada, abbiamo fatto troppo noi per loro. E vedete, senza fatica, non si raggiunge nulla. E attenti all'amore. L'amore non fa sempre bene, quest'amore è buttato là. Perché l'amore fino a un certo punto fa crescere un figlio, se lo ami troppo lo rimbambisci. Perché l'amore non deve servire per coccolatti, ma per farti camminare, per renderti libero, per farti volare. E l'ultima cosa debole è che ci hanno scollegato i sogni dalla vita. I sogni sono quasi utopia, la realtà è mediocre, e se non riesci a abbracciare un sogno con la vita, non starai mai bene. Vi ricordate San Francesco? Trova due righi di Vangelo. Si può essere liberi come gli uccelli del cielo, crescere come i fiori dei campi, cercare il regno di Dio, poi mangiare il vestito si trova. L'ho voluto vivere così, che è morto in pace alla porziuncola, perché un sogno l'ha davvero vissuto. Allora, torniamo a sognare, perché c'era un sogno sognato che bisognava sognare.